Il tempo è fatta la rinascita, il tempo è fatta la condizione del suo corpo, il tempo è fatta la schiera, riprendere, 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 ho preso la pachinina, almeno un milligrammi, riprendere un auline, se vuoi l'occhio sono... Ah grazie, in caso approfitto poi tornando... sono proprio estremamente e lo sono poi sono anche un po' con la tensione che fa con la tensione 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 con la tensione